Allora Renzo, è tutto a posto per il tuo viaggio? E non c'è scritto niente sul biglietto? Fai vedere? Secondo me qui non c'è scritto niente. Hai per caso ricevuto altre mail dalla segretaria? Ah, capisco. E la compagnia aerea non ti ha mandato un avviso per il check in online? Di solito lo inviano almeno 10 giorni prima della partenza. Tutto è possibile. Di solito si devono inserire i dati del documento di identità o il numero di prenotazione. Giusto! Per andare in Marocco serve il passaporto. Certo che in questo modo si risparmia un sacco di tempo. Bene Lorenzo, io devo andare, ho una riunione con il direttore. Ti saluto e aspetto due notizie da Casablanca. girlfriends, ti saluto e aspetto. Sì, questa è piacera! Di solito alla pagina. Beh, ma non c'è una lingua! Qu'è una lingua! Voi cosa è un'unizieta? La prima parte del corso, io mi piace, i che mi piace, i c'è un'unizieto. Grazie a tutti